Primo maggio festa a metà per negozianti e ristoratori a Salerno. La pioggia ha rovinato in parte un'occasione di guadagno, anche se i locali si sono comunque riempiti dei tanti che hanno deciso di passare una giornata all'aperto. Gli esercenti hanno ribadito l'impegno per dare slancio alla ripresa, dopo le lunghe settimane di chiusure, anche se gli affari non decollano. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche e ripartire. I nostri consumatori, i clienti, sanno per il tempo che i negozi oggi a Salerno sono quasi tutti aperti. Abbiamo avuto risposta anche dalla parte orientale della città. C'è la voglia, perlomeno dalla maggior parte dei commercianti, di ripartire e di fare. È un messaggio sicuramente di apertura, di rivendicazione del diritto al lavoro. Vogliamo riempire questo primo maggio di un messaggio, tra virgolette, di protesta. Non vogliamo più sottostare, nei prossimi mesi, qualora dovesse esserci ancora queste zone rosse, a pagare un prezzo troppo caro in troppo pochi. In altri tempi questo era un ponte di lavoro, di movimento, di scambi di regioni, cose che in questo momento mancano veramente. Si sente la mancanza proprio del turista. Io penso che recuperare non si possa, assolutamente, però ovviamente sarà comunque una boccata di ossigeno per le casse indebitate dei commercianti. Si prova a ripartire sperando che tutto ritorni alla normalità. Siamo qui per onorare appunto il lavoro che noi facciamo sempre con grande amore. Il clima è incerto, ha scoraggiato però le gite in spiaggia, quasi del tutto vuoti i litorali, poche le persone che si sono avventurate sul lungomare a Santa Teresa.